Ieri, passando in automobile, mi è capitato di vedere da lontano, nel parcheggio di un campo sportivo, un signore vestito da Babbo Natale che stava armeggiando intorno al portellone del portabagagli della sua auto. Ho trovato un po' strano questa scena, insomma, questo Babbo Natale moderno che armeggiava non tanto con la slitta, ma insomma con il portellone aperto della sua auto vestita un po', così, Babbo Natale un po' trasandato. E mi è venuto da pensare a quante cose ho fatto e a quante cose non ho fatto nella mia vita, perché mi sono accorto che non mi sono mai vestito da Babbo Natale, per esempio, no? Una delle cose che non ho fatto nella mia vita è stata quella di vestirmi da Babbo Natale. E poi ho cercato di capire quante altre cose non ho fatto che mi siano venute in mente. Per esempio, non ho mai fatto una gita in barca a vela, non ho mai guidato un camion o un autobus, non mi sono mai fatto uno spinello, una pera, una sniffata, insomma, non ho mai preso una droga in vita mia. Non mi sono mai ubriacato sul serio, non ho mai tirato il collo a un pollo, non ho mai sparato con un fucile vero, anche a un tiro a segno. Non ho mai fatto un viaggio in deltaplano, non mi sono mai lanciato quel paracaduta, non sono mai stato in America, non ho mai fatto una fuga in seguito dalla polizia, non ho mai fermato un treno, non sono mai disceso all'inferno, non ho mai addestrato un topo, non ho mai trovato un tartufo, non ho neanche mai camminato sulle acque, non ho mai scoperto un'isola deserta, non sono mai salito in un elicottero, non ho mai guidato una Ferrari, non ho mai dipinto un quadro a olio, né scolpito una statua sulle pietre o sul bar. Non mi sono mai colicato in una bar. Non ho mai fatto un'orgia o del sesso di gruppo. Non ho mai vinto una lotteria. Non ho mai giocato al superenalotto o al gratta e vinci. Non ho mai fatto una puntata al casino. Non ho mai visitato Napoli. Non mi sono mai rapato a zero. Non ho mai comprato un videogioco. Non ho mai sotterrato un tesoro. Non ho fatto il militare. Non ho mai fatto della pesca subacquea. Non mi sono mai fatto un tatuaggio. Mai messo un piercing. Mai portato un orecchino. Non ho mai provato a suicidarmi. Non ho mai giocato alla roulette russa. Non ho mai cavalcato una tigre. Non ho mai partecipato a un'olimpiade. Non sono mai entrato in uno stadio. Non ho mai cantato da basso. Non ho mai diretto un'orchestra. Non ho mai fatto un patto col diavolo. Non ho mai trovato una lampada magica. Non ho mai postato la foto di un piatto di spaghetti su Facebook. non ho mai indossato una colazza. Non ho mai dormito su un albero. Non ho mai rotto un violino sulla testa di qualcuno. ma insomma queste sono alcune delle cose che mi sono venute in mente di non aver fatto in vita mia. Ma se penso alle cose che ho fatto invece la lista potrebbe essere anche molto più lunga. Leo San? Che cosa? anche Grazie.